11 imprenditori del distretto della Nautica via Regina sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di appropriazione in debita di finanziamenti per un totale di circa 250.000 euro. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Lucca è emerso che gli indagati dopo aver richiesto e ottenuto finanziamenti agevolati dalla regione tramite fidi Toscana non avrebbero poi destinato le somme per le finalità previste dal bando volte a favorire l'avvio di micro e piccole imprese. Le 11 persone denunciate 10 romeni e un italiano infatti dopo aver ottenuto in acconto il finanziamento agevolato a tasso zero l'avrebbero successivamente utilizzato per spese personali. Uno dei denunciati inoltre avrebbe indebitamente percepito anche 25.000 euro a titolo di finanziamento garantito dallo Stato previsto dal decreto liquidità per le imprese danneggiate dall'emergenza covid autocertificando falsi dati contabili.